Grande soddisfazione è stata espressa dal segretario generale Will Pai Interno Michelangelo Patanè per l'esito della elezione per il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria RSU svoltasi dal 5 al 7 aprile 2022 nella prefettura ufficio territoriale di Caltanissetta e nella questura di Caltanissetta, cui ha preso parte il personale civile contrattualizzato dipendente del Ministero dell'Interno in servizio negli uffici centrali e periferici della provincia il dirigente sindacale esprime pieno compiacimento per il numero di seggi conquistati 2 su 3 in prefettura con una percentuale di resti e 1 su 3 in questura dove però la lotta è stata più serrata per la presenza di ben 4 liste concorrenti Congratulazioni agli eletti nella lista Will Pa, Giorgio Stella, Francesco Paolo Giannotta e Roberta Maria Marchese con i migliori auspici di buon lavoro sono stati espressi appunto dalla segreteria esprimendo gratitudine ai componenti delle commissioni elettorali Michele Pagano, Vincenzo Cannella ed Esterina Ferrauto e dei componenti dei seggi Giuseppe Pennata e Angelo Russo che con correttezza, trasparenza e scritto nel comunicato hanno assicurato il buon esito delle votazioni